Se ne discuteva ormai da tempo e quindi con i colleghi infatti c'è stato il voto all'unanimità quindi a testimonianza che l'argomento è sentito ed è stato sviscerato bene in commissione con il collega Montepara, ci siamo fatti carico appunto di un progetto di legge mettendo in campo appunto sia l'esperienza politica e anche quella professionale che mi riguarda da vicino perché ci siamo posti il tema riguardo agli animali d'affezione guardando al fatto che spesso le famiglie soprattutto negli ultimi tempi che non hanno possibilità economiche che hanno anche portatori di handicap all'interno del nucleo familiare non hanno possibilità di curare i propri animali, degli elementi di terapia per diverse situazioni considerati membri delle famiglie quindi su questo abbiamo voluto porre l'attenzione, abbiamo cominciato questo percorso perché è l'inizio in quanto è una legge pilota perché non ci sono altre regioni che hanno pensato ideato una sorta di contributo di compartecipazione alle spese veterinarie per chi non ne ha le possibilità quindi sicuramente ci sarà anche ancora tanto lavoro da fare che faremo, aggiusteremo appunto la fase applicativa di questa legge e sono sicuro ne abbiamo discusso anche in consiglio e in commissione che questa legge sarà presa come punto di riferimento anche da altre regioni quindi oggi la regione Abruzzo non può che essere orgogliosa di un dispositivo di legge che è un atto di dignità e che sicuramente apre una nuova era e che guarda per la prima volta in maniera concreta agli animali d'affezione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti